Buongiorno e benvenuti nel tutorial che cercherà di spiegarvi con pochi semplici passi come accedere alle stanze di lavoro ISPRA. Una volta entrati nella schermata iniziale, cliccare sulla scritta in alto a destra Login, inserire la propria username e la password che vi abbiamo fornito ed entrare. Una volta dentro, consigliamo al primo accesso di entrare nel proprio My User Profile del menu a sinistra, con Account Setting, cambiare il proprio indirizzo di posta elettronica o aggiornarlo. Dopodiché recarsi su Change Password per cambiare la propria password. Al primo accesso è sempre consigliabile farlo per motivi di sicurezza. fatto questo, rientrare sulla Home Page, a titolo esemplificativo scegliamo la stanza di lavoro del Sistema Nazionale delle Protezioni dell'Ambiente, cliccare ed entrare nel sistema.